Un presunto giro di prostituzione tra Gele e Butera. Gli investigatori sono convinti che fosse favorito anche da intermediari che facevano da collegamento tra clienti e giovani donne dell'est Europa, soprattutto romene, davanti al collegio penale del Tribunale. Sono cinque gli imputati, sia cittadini italiani che romeni devono rispondere di sfruttamento della prostituzione. L'indagine riguarda fatti che risalgono ad alcuni anni fa, ricostruiti dagli investigatori anche attraverso appostamenti e segnalazioni. Tutti gli imputati sono a processo davanti al collegio penale del Tribunale presieduto dal giudice Miriam D'Amore, all'atere Tiziana Landoni e Angela Di Pietro. Da quanto emerso tra le giovani costrette a prostituirsi, ci sarebbe stata anche la figlia di uno dei coinvolti. Accuse che i difensori, gli avvocati Carmelo Tuccio, Giuseppe Ferrara, Ivan Bellanti e Cristian Parisi, escludono i PM della Procura, però sono convinti che ci fossero proprio gli imputati dietro i presunti appuntamenti a pagamento, prestazioni che venivano pagate e i soldi sarebbero anche finiti proprio in mano ad alcuni degli imputati. Accuse che dovranno essere dimostrate nel corso del giudizio.